E' un gioco continuo, un piano a distanza con Maier che o non capisce, finge di non capire. E' un gioco continuo, un piano a distanza con Maier che o non capisce, finge di non capire. E' un gioco continuo, un piano a distanza con Maier. E' primo in classifica, dopo i tre punti presi a Via del Mare. Mentre la coda di quello che è successo poco fa tra Maier che andrà esplorata con Maier che viene allontanato e portato via dal campo. E' un gioco continuo, un gioco continuo, un gioco continuo. Grazie.